Questo servizio viene offerto da Cellati Moto, concessionaria Betamotor per Brescia e provincia. Visitate lo showroom di Cellati Moto a Brescia in via chiusura e 234 C. La cittadina piemontese di Varallo Sesi, annota per il Sacro Monte, luogo di culto diventato patrimonio dell'UNESCO, ha ospitato nella serata di sabato 31 luglio la quarta prova del campionato italiano Trial Indoor, proposta dal Motoclave Valsesia, che è tornato in questi ultimi anni ad organizzare gare a livello nazionale. Molto spettacolare ed elevato il livello degli ostacoli realizzati sotto la superficione dell'ex pilota olandese Sugita Van Rennen, tracciatore ufficiale del Motoclave Valsesia. Si è trattato di ostacoli che sono poi risultati molto graditi a tutti i concorrenti. 10 concorrenti a via in questa fase eliminatoria dove passeranno alla finale poi solamente i migliori tre. Ma vediamo com'è andato. Superata la mancia selettiva del pomeriggio, il pilota di casa Filippo Locca in sella alla beta 125 ha affrontato la semifinale della sera riuscendo comunque a difendersi egregiamente, con tre penalità alla prima zona e una penalità alla terza speciale superata tra gli applausi del pubblico. Il mancato superamento delle altre zone lo ha però relegato al decimo posto finale. Comunque per lui un buon risultato perché già la qualificazione per un pilota della classe TR3 125 può considerarsi un risultato soddisfacente. E c'è una beta 125 anche per Giacomo Saleri che però appartiene alla categoria TR2. E in questa gara ha subito dimostrato una discreta dose di coraggio affrontando ostacoli molto elevati senza timore alcuno. Dopo un discreto avvio di gara con tre penalità Saleri è stupito tutti superando con una sola penalità, la difficilissima seconda zona. Ma poi però ha dovuto arrendersi alle successive speciali risultate per lui off-limits e al termine una nona posizione. La piazza paravotore e allora l'uscita viene in una penalità. Alternando, come spesso usa fare, passaggi a zero con passaggi a cinque penalità, il bresciano Matteo Cominoli subita il partito subito male sbagliando le prime due sezioni per poi strappare un formidabile passaggio netto alla terza speciale. Nulla di fatto poi alla quarta sezione superata solo da tre concorrenti e poi chiusura in crescendo con un altro splendido passaggio netto alla quinta e l'ultima speciale. La sconfitta subita però al parallelo non ha modificato la sua ottava posizione. Gara da dimenticare per il vicentino Andrea Vaccaretti subita che dopo il secondo posto nella prova precedente si è getta al vento la qualificazione sbagliando in due zone sul cinque. Partito bene con un passaggio netto alla prima spettacolare sezione, Vaccaretti sbaglia la seconda zona perdendo così concentrazione. Infatti poi posa un piede del tutto evitabile alla terza zona e sbaglia ulteriormente alla quarta scivolando così nella parte bassa della classifica. Un ulteriore piede posato alla quinta zona lo relega definitivamente al settimo posto. Migliore tra i giovani che hanno superato le selezioni del pomeriggio, Luca Cotone in sella alla Gas Gas ha dimostrato anche in questa occasione di essere pronto al passaggio tra i professionisti. Infatti il pilota di Domodossola si è dimostrato sicuro e determinato superando bene le prime tre speciali con una progressione di punteggi seconda solamente al vincitore Lenzi. Caricato quindi da questo avvio di gara superlativo Cotone supera poi con tre piedi di aiuto anche la difficilissima quarta speciale. L'errore però alla quinta sezione è non certo impossibile e la sconfitta al parallelo contro Lizio lo relegano al sesto posto finale ma con tanto margine di miglioramento. Un solo grave errore ha compromesso la gara di Francesco Iolitta in sella la beta il quale ha superato con una penalità le prime due speciali e poi ha volato sulla terza, quella di Traversini non certo facile, aprendosi uno spiraglio per l'accesso alla finale. Purtroppo per Francesco Iolitta l'insidiosa quarta speciale si rivela insuperabile facendo così scattare il primo ed unico cinque. L'ottimo passaggio spuntato poi alla spettacolare quinta zona lo riporta in gara per la finale ma la sconfitta subita al parallelo dopo la di Grattarola lo relega al quinto posto senza possibilità di continuare la gara. Ma si è andata abbastanza bene a parte un errore subito alla prima zona molto molto banale poi il cinque alla quarta zona che ci poteva stare e purtroppo come va sempre a finire queste gare qua il parallelo è stato discriminante però a volte ci sta di vincere a volte di perdere. Comunque sono contento della mia prestazione. E c'è ancora un quarto posto per il dresciano Michele Orizio in sella alla Gas Gas che parte bene posando un piede alla difficile prima sezione e poi stupisce il pubblico uscendo a zero dalla non meno facile zona dei tronchi. Successivamente un pasticcio alla zona di Traversini appesantisce il suo punteggio. E purtroppo anche per Orizio la quarta speciale si rivela insuperabile facendo scattare l'unico cinque della sua prova. Seguendo poi Orizio supera di slancio la quinta speciale e vince al parallelo contro Cotone ma purtroppo per lui con otto penalità la gara finisce alla prima manche con il quarto posto. passaggio che crediamo più complicato per l'uscita la risolve alla grande con zero penalità mi dice il giudice. Sì, zero penalità. E allora venisse. 3, 2, 1, via! Partiti! Non ci sono dubbi. Michele Orizio! Sì, è un errore molto banale. Ho sbagliato la valutazione di un salto, sono arrivato corto e nell'indoor non si possono commettere errori, l'abbiamo già visto molte volte. Purtroppo quest'errore mi ha pregiudicato l'accesso alla finale e quindi ci riproverò la prossima volta. L'ennesima medaglia di legno per me, però mi fa ben sperare perché comunque sono sempre lì a ridosso dei primi. spero prima o poi di dare una zampata anch'io insomma. La cascassa, vicecampione italiano per quanto riguarda... Sempre più in forma, il torinese Daniele Maurino su cascassa ha già dimenticato il brutto volo della gara precedente, quella di Castellanza, riproponendosi qui a Varallo di lottare fino alla fine per il successo. Aiutandosi con qualche piede di appoggio e per evitare guai peggiori, Maurino si ritrova alla fatidica quarta zona con tre penalità e pagandone altre due esce positivamente dalle grosse pietre di fiume, molto insidiose, prenotando così un posto in finale. Lo zero d'obbligo per i big alla quinta zona, quella dei gradoni, vale anche per Maurino e nonostante la sconfitta al parallelo subita ad opera del solito Lenzi, Daniele Maurino guadagna ugualmente il terzo posto utile per passare in finale. Apparso sicuramente teso per la posta in gioco qui a Varallo, il lecchese Matteo Grattarolo in sela alla scerco, poteva tornare in testa al campionato in questa gara o rinunciarvi definitivamente. Purtroppo per Grattarolo la tensione è un avversario in più e il banale errore commesso in ingresso alla seconda zona lo scatena nuovamente, mettendo rischio anche la qualificazione, ma poi grazie ad un passaggio da mondiale alla difficilissima quarta zona, tra le ovazioni del pubblico incantato, torna il sorriso per Matteo Grattarolo e la giusta carica sul suo volto. Così guadagna il secondo posto utile per passare alla finale e sperano ancora nel successo e nel cambio nella classifica di campionato. Questo servizio è stato offerto da Cellati Moto, concessionario a Beta Motor per Brescia e provincia. Cellati Moto vi aspetta nel suo showroom a Brescia in vie chiusure 234C. Cellati Moto vi aspetta nel suo showroom.